Ben trovati al TG Web. In questa edizione parleremo del presunto pedofilo che avrebbe abusato di tre bambini. Lo faremo per dovere di cronaca, ma non entriamo nei dettagli di una storia così delicata perché vogliamo tutelare in primo luogo i bambini e le famiglie coinvolte e poi anche la persona accusata di un reato così ignobile. Cercheremo invece di approfondire la vicenda che vede coinvolto l'ospedale San Gerardo in un giro di sangue sospetto. Le novità che emergono nelle carte dei PM monzesi sono inquietanti. Si parla di sangue infetto del virus dell'AIDS trasportato con motorini in centri analisi del milanese. Quindi cercheremo di capire dove questo sangue andava e soprattutto perché veniva prelevato e spostato senza le minime garanzie di sicurezza. Bene, ci fermiamo qui. Titoli e poi il TG. Il blitz dei NAS nel reparto malattie infettive del San Gerardo ha portato a una decina di indagati fra medici e ricercatori. L'episodio è accaduto giovedì in via Borromeo. L'intervento dell'agente evita il dramma. Roma risponde picca alla richiesta di deroga. L'ente Brianzolo sarà accorpato a Como e Varese. Proseguono i lavori per far rinascere il laghetto. Intervento per tutelare un importante serbatoio di biodiversità. Sangue infetto da virus HIV trasportato in motorino all'interno di borse termiche dal San Gerardo a uno o più laboratori di analisi milanesi. È il particolare più inquietante che emerge dall'inchiesta della procura di Monza dopo il blitz di giovedì scorso da parte dei NAS nel reparto malattie infettive dell'ospedale. I PM Caterina Trentini e Salvatore Bellomo vogliono fare chiarezza sulle sperimentazioni cliniche in atto nel centro monzese e sul rispetto dei protocolli di ricerca. In particolare sembra che ai pazienti fosse prelevato a loro insaputa un surplus di sangue e l'inchiesta punta a capire che fine facesse il sangue in eccesso, per quali scopi fosse utilizzato, magari venduto o se il numero dei prelievi fosse gonfiato per ottenere più rimborsi dalla regione. Una decina gli indagati tra medici e ricercatori, oltre al direttore del reparto Andrea Gori, accusato di falso ideologico e peculato. Nei prossimi giorni sono previsti gli interrogatori davanti ai magistrati. Ricordiamo che il Sangiardo è un centro di eccellenza tra le ricerche in atto su HIV ed epatite. L'ospedale monzese è uno dei pochi centri italiani coinvolti nella sperimentazione sul vaccino terapeutico messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla scorsa primavera sta lavorando a un nuovo vaccino di tipo preventivo in collaborazione col Centro Nazionale AIDS. Continuiamo con la cronaca. Episodi continui di intimidazioni, violenze psicologiche e fisiche. Questa l'accusa a un 26enne di seregno arrestato per abusi nei confronti di minori. Vediamo il servizio. Un giovane di 26 anni, di buona famiglia, diplomato e in cerca di lavoro. Un insospettabile che non aveva mai dato problemi, tantomeno ai genitori entrambi impiegati con i quali viveva a seregno. È stato arrestato venerdì dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale plurima su minori di meno di 10 anni. Le vittime sono tre ragazzini di 8 e 9 anni. I bambini si trovavano al parchetto vicino a casa a giocare a pallone. È qui che il ragazzo, un giorno di tre anni fa, ha convinto uno dei tre bambini ad appartarsi con lui per poi violentarlo. E così ha fatto con gli altri due, in tempi diversi ma insieme. Per tre anni avrebbe abusato di loro. Ad incastrarlo, la confidenza alla zia a inizio ottobre di uno dei dodicenni. Episodi continui di intimidazioni, violenze psicologiche e fisiche che la donna non ha potuto non dire ai genitori del bambino. Sono stati i propri genitori a denunciare tutto. Così è scattata l'indagine dei carabinieri coordinati dal PM Flaminio Forieri che ha fatto emergere anche gli abusi nei confronti degli altri due bambini. Aggressioni rimaste coperte per anni per paura e vergogna. Lunedì mattina il GIP Alfredo De Lillo ha confermato la custodia cautelare. Momenti drammatici giovedì pomeriggio a San Carlo dove una donna ha tentato il suicidio. Solo l'intervento tempestivo di un agente di polizia locale ha evitato il dramma. Vediamo com'è andata. Tentativo di suicidio qui a San Carlo, giovedì pomeriggio, di fronte al cimitero. Una donna di 53 anni ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene. Solo il pronto intervento di un agente di polizia locale ha evitato il dramma. Dei ragazzi mi hanno avvisato di questa donna supina vicino all'aiuola che pensavano che fosse una tossicodipendente e invece era una signora che aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene con un pezzo di vetro. Lei stava passando diretto verso le scuole per fare il servizio all'esterno delle scuole. Si è fermato? Mi sono fermato e subito l'ho spostata e ho tentato di tamponare il sangue che usciva dalle vene con dei fazzoletti che i passanti mi davano in quel momento. Erano qui a presente altra gente che volevano suorarlo. Poi è arrivata l'ambulanza dopo qualche minuto. È arrivata subito l'ambulanza e il collega Miglione che abbiamo tentato subito di rianimarla perché era anche assente come... Poco lucida. Poco lucida, sì, assente, assente. Penso che abbia preso anche dei medicinali, dei farmaci oltre a tagliarsi, a tentare il suicidio. L'intervento dell'agente Rosatti quindi è stato decisivo in questa situazione? Sì, infatti volevo proprio complimentarmi con l'agente Rosatti perché è stato veramente pronto. Ha avuto una prontezza nell'intervenire senza aver paura del sangue oppure della situazione che sembrava veramente tragica perché al momento perdeva molto sangue. Lui è arrivato al tamponato e gli ha tirato sulle braccia. Subito il sangue ha incominciato a rallentare e ho visto che non c'era bisogno di nessun aiuto. Io ho cercato di fermare i passanti, di fare aria e di parlare con questa ragazza. Ancora mistero dietro alle motivazioni del suo gesto. Sembra però, come ha riferito il figlio, che avrebbe ricevuto una comunicazione dall'Inps con la revoca della pensione di invalidità civile e la restituzione di oltre 8.000 euro. La donna è stata trasportata all'ospedale di Desio e le sue condizioni non sono gravi. Cala il separo sulla provincia di Monzebrianza. La fine della provincia, poco più di tre anni della sua nascita, arriverà con un decreto legge all'esame del primo Consiglio dei Ministri di novembre. Saranno 7 anziché 12 le province lombarde, con Monza accorpata a Como e Varese. Il Governo ha respinto le tante richieste di deroga, applicando senza sconti le regole fissate dalla legge sulla spending review. Le province che hanno meno di 350.000 abitanti e un'estensione inferiore a 2.500 km2 dovranno dunque essere accorpate a quelle vicine. Considerando solo le regioni a statuto ordinario, le province scenderanno da 86 a 50, comprese le 10 città metropolitane. Quelle tagliate saranno 36. Il decreto prevede un processo a tappe forzate. Dalla fine di giugno del 2013, tutte le province, anche quelle che non vedranno toccare i propri confini, saranno guidate da un commissario. Resta da decidere solo se il commissario sarà esterno nominato dal prefetto o se il ruolo verrà affidato al presidente uscente della provincia. Martedì sera il Consiglio Comunale ha votato il suo nuovo presidente. Si tratta di William Viganò, del PD, che ha ottenuto 20 voti su 30 presenti. Viganò, 38 anni, prende il posto del PD Elino Guido D'Auria, che si era dimesso per motivi personali lo scorso mese di settembre. Cambiamo argomento. A San Carlo operai al lavoro per sistemare il laghetto all'interno del Parco Falcone Borsellino. Siamo andati a vedere come stanno andando i lavori. Siamo al Parco Falcone Borsellino, a San Carlo. Qui, come si vede, i lavori proseguono per rifare il look al laghetto che si trova nel parco dal 1996. Con questo progetto, l'assessorata ai parchi, all'ecologia e all'ambiente punta al recupero ambientale dell'area, che versa in una situazione di degrado provocato da atti vandalici e scarsa manutenzione. La prima fase dei lavori ha consentito lo svuotamento del laghetto, che negli anni è diventato un importante serbatoio di biodiversità, prestando la massima attenzione alla fauna esistente. L'operazione si è svolta in collaborazione col WWF e Legambiente. Dunque, il laghetto è nato in un parco urbano, come direi opera di arredo urbano. Però il laghetto, che ha quasi 20 anni, nel tempo ha accolto inaspettatamente vari tipi di fauna selvatica. particolarmente anfibi, tra cui il rosso smeraldino. Basti pensare che ci sono più rospi smeraldini in questo laghetto che in tutta la Svizzera, perché sono animali che non vivono, diciamo così, verso la montagna. In Svizzera pare che abbiano censito 17 copie di rospi smeraldini, che ce ne sono di più, o perlomeno. Vabbè, e poi ci sono delle rane verdi. E poi, non parliamo della vifauna, che qui viene ad abbeverarsi. In particolare, ci sono delle gallinelle d'acqua che sono annidate in quel tifeto. Nonostante i lavori, sono rimasti lì, perché alla sera vengono fuori e qui si vedono le impronte. Poi, gli abitanti della zona dicono che al mattino presto il rone volteggia sul laghetto e viene a mangiare i pesci. Questo intervento si è reso necessario anche per atti vandalici che nel corso degli anni hanno un po' colpito il laghetto. La problematica principale del laghetto, almeno un po' di anni fa, era legata proprio al fatto che il laghetto era un punto di ritrovo di ragazzi che combinavano un po' i pasticci. Abbiamo trovato nel laghetto un carrello del supermercato, una bicicletta, pezzi delle panchine che una volta erano qui e sono state rotte, eccetera. La recinzione di sicurezza a ridosso delle sponde del laghetto e il punticello in legno saranno sostituiti. Inoltre, sarà posizionata una staccionata per definire l'area e limitare i vandalismi. L'investimento previsto è di 30.000 euro e il nuovo laghetto sarà pronto entro la fine di novembre. Ultima lezione di legalità venerdì scorso agli studenti delle elementari e delle medie della scuola parrocchiale Sant'Ambrogio. Sul palco del teatro di Viale Edison è intervenuta Giuseppina Barbara, magistrato del Tribunale di Monza. L'abbiamo intervistata. Allora, dottessa, come spiegare ai ragazzi, ai giovani, l'importanza della legalità in un momento in cui, dalla politica, arrivano segnali che sembrano affermare il contrario in realtà? Spiegare ai ragazzi sin da piccoli quale sia il senso delle regole, che le regole non sono un limite, ma sono un'opportunità e che garantiscono l'uguaglianza tra tutti noi, aiuta i ragazzi a diventare dei cittadini consapevoli, perché solo attraverso questa consapevolezza si potrà cercare di costruire una società migliore, nella quale veramente si possono realizzare quei principi di uguaglianza e di solidarietà che sono previsti nella nostra Costituzione. Aiutare le famiglie a convivere con un bambino autistico. Questo è uno degli obiettivi dell'Associazione La Nostra Famiglia di Catebrianza, obiettivo che si può raggiungere anche attraverso l'arte. E questo il senso della mostra Autismo, ve ne parliamo, in programma fino al 27 ottobre presso la Biblioteca Civica Ettore Pozzoli. In mostra una decina di collage realizzati dai genitori dei bambini autistici, seguiti dal centro di riabilitazione dell'Associazione. Qual è il significato di questa mostra? Dunque, io credo che il valore aggiunto di questa mostra rispetto ad altre iniziative è quella che è nata dai genitori, dei bambini che hanno questo tipo di diagnosi. I genitori, appena noi abbiamo visto i loro lavori, abbiamo detto che sono talmente belli che ci vorrebbe una mostra, hanno accolto con entusiasmo la richiesta, la proposta. non solo, quindi hanno deciso di mettere a disposizione di altri genitori che stanno vivendo lo stesso dramma la loro esperienza, ma hanno aggiunto anche altri due pezzi di mostra, chiamiamoli così, che poi si possono vedere appunto qua in Biblioteca, che sono rivolti anche al territorio in senso più globale, cioè anche alle famiglie che non hanno bambini con questa diagnosi perché ritengono che per costruire una società più solidale e più inclusiva sia necessario poter parlare davvero con tutti. Resterà chiuso per circa un mese il Palaprada dopo che l'incendio provocato da un corto circuito, mercoledì scorso aveva distrutto cabina regia e danneggiato il controsoffitto, il parquet, gli impianti elettrici della palestra. Le società di hockey, basket, pallavolo e pattinaggio artistico che si allenavano e giocavano le loro partite di campionato nell'impianto hanno trovato soluzioni alternative nei paesi limitrofi. E anche il trofeo disabile città di Seregno in programma domenica è dovuto emigrare. Le partite di basket in carrozzina infatti si giocheranno nel palazzetto sportivo di Perticato. In campo Seregno, Cinisello, Cantù e Torino. La finale è in programma per le 4 e un quarto. Il nuoto invece si disputerà regolarmente nella piscina dell'impianto della parada dalle 9 alle 16. In vasca anche gli atleti della nazionale paralimpica. E terminiamo con le previsioni del tempo. Tempo in peggioramento nel weekend e in arriva una perturbazione che porterà a cieli molto nuvolosi con piogge in pianura e neve in montagna e un progressivo calo delle temperature con venti freddi da nord. Con questo abbiamo terminato. Vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima. Grazie. 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 Grazie.